Allora, questo è un bel gioco, pluripremiato, come miglior hack dell'anno, vero? Paco, Paco, ammazzati! Va bene, comunque ciao a tutti, stiamo giocando a un gioco che ci piace tantissimo chiamato Pokémon Rubino 2 di un autore che amiamo tantissimo, ovvero Bisharp Sì, sì, scusa se ti ho fatto attendere, no no, ti trovi nel mondo dei Pokémon, ma va, mi chiamo Bercia Ma per tutti sono il professor Pokémon, questo è un Pokémon, sì vabbè, tanto, oddio, persino Azurill è triste Anzi no, è proprio, sì, questo è proprio, è proprio sofferente Fango è quello, spero Come ci chiamiamo quindi? Alp? No, quello sarà il rivale Ti chiami Alp, giusto? Sì Perfetto, buonizio E dai, su Mi sta già salendo il cringe C'è il tetamoto E c'è anche qualcosa di sbagliato in quei tiles La userà come parete crollata, che ne sai Perché Sì, bro Certo Certo Proprio sorellona, no, nel caso non si fosse capito Eh, certo Hey Alp Alp, non dirmi che ti sei scordato che giorno Sia Oggi No, ma certo che non me ne sono dimenticato Alp Ma è necessario ripetere ogni volta Alp all'inizio della frase? No, perché secondo me il giocatore si dimentica il suo nome, quindi sua sorella, che è molto premurosa, comincia a ripeterlo Per farlo ripetere Ah, ok, ok Siamo storditi Oggi è il giorno in cui comincerai un'avventura Non è possibile scordarsi di cose così importanti Così importanti Ma avevamo detto che Lo sapevo, volevo vedere se Ah Su, Alp Ma chi vuoi darla a bere? Su, muoviti che Vera ti sta aspettando No, no, che Vera ti sta aspettando Ah Questo disturbo da So già come andrà a finire la frase Quindi la voglio completare Ma è sbagliata Fai a te dire da mamma dove si trova precisamente Ok, scusa Però scusa, eh Domanda Perché abbiamo i capelli grigi adesso? E perché la sorellona ci ha chiamati fratellone? Cioè, chi è quello maggiore qui? Ok Siamo a Per Il day night sea Nota del creatore Appena tiene il tuo primo poca Per qualunque lotta Vai a curartelo prima in un centro poca Sto cazzo! Ed è quello che vogliamo fare Eventuali bug, eventuali non voglio di programmare un evento corretto Aspetta, salvo un attimo Bravo Adesso vi facciamo vedere una cosa Molto divertente, vero Paco? Oh sì Vai al centro poca No Ma, ma, ma Aspetta, ah giusto, non ce l'abbiamo ancora il poca, non vero? No Oh Dove di divertirsi No No Caspio Ce l'ha fatta No, non mi abbatto, c'è un altro bug Deve esserci un altro bug No, no, no C'è Lo facciamo a breve Qual è il Che pokémon ho ottenuto, scusa Secondo me ti ha dato Magikar E fu così che cominciai il mio viaggio Sarà meglio cominciare ad allenarsi La mia prima notte in palestra sta arrivando Minchia le palestre in sti giochi Ah, Eevee Ok Vabbè, ok E quale sarebbe il bug, scusa Click La funzione aggiornamento automatico del Pokédex si è attivata Eh Ma non ho pokémon Ehm No, no Voglio che mi facciano fuori Eevee Ah, perché non c'è il Esattamente Eh, però salva prima di andare avanti Un save state rapido Magari Con azione Vediamo dove siamo finiti Benvenuti a Petalipoli Sono già avanti nel gioco Ciao No Ha ha Tra l'altro è Trini Quello di Fento Oddio no Mi sparo Che cosa lo facciamo Oh Pokémon Non me li aspettavo Perché è già uscita la Cioè, si è ricordato questa volta Che ci sia la risorsa Dove ci sono tutti gli sprite Ah, ok Ha imparato a usare Google Eh sì Trammisei mitraglia Dammi il vaso Wailmer Perché ci servirà No Il vaso Wailmer Starly che vola Stammi fermo Ehi Dicevi sul fatto Che li hai ben seriti bene Io Ci ho sperato Io esigo Starly Quindi non rompere il cazzo Adesso vado Ma non aspetto Guarda È proprio Una fatta talmente Al costo delle poco C'è la vacca C'è la vacca a cedro Che comunque Prendo perché Beh Ma anzi È una ventina Prendine di vacca a cedro Cazzo Effettivamente non costa niente Qua davano tipo 30 PS Se non mi sbaglio No Le vacca a cedro Davano una cosa Come 50 o 60 No Aspetta Ah Proprio Rapidartili Ignorante 30 Ah qui 30 Vabbè Oh frega Cazzo Allora Qua sopra Ci dovrebbe essere Una super pozione Sì Quei occhi Quei occhi Sembrano proprio Gli Scusa un attimo Come la battiamo Petra con Ivi Ah ecco Ah ok Ok Ha senso Vabbè che questa Che fatta low cost E si vede Però Non puoi usare Tati Cosa cambia Abbiamo aggiunto Degli alberi Ok Cosa che ho E' E' Un basso Davanti al coso Perché altrimenti Ma ma Ho una pokeball Una Facciamo save state E cerchiamo di catturare Starli Su Oddio brutto Oddio Io voglio lui Perdonami Ma io voglio starli Ah che Ok save state Save state Ah ok a posto E lo chiamiamo Stai lì O sta lì Starlin 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 Bravo Sta Proprio Con la Y Con la Y Ah vabbè Va bene anche così Va bene anche così Perfetto Starlin Wow ma quella È Petra La calestra Ciao Sono allenatore No Sì Senza cento Anche c'è da poco Ah quindi sei un allenatore Alle prime armi E quindi suppongo Che tu non abbia neanche una medaglia Vero Esatto Mi sto allenando Proprio per questo motivo E tu sarai il mio primo obiettivo Sì no è giusto È giusto È giusto Sì 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 Però sembra che stia facendo avanso Ah ok ok Ah ma qui sapevi che è meglio La capopalestra di ferruggipoli Eh Certo sono le prime armi ma conosco tutto di questa regione Bene mi piace Prendi questo pokemon così C'è udita a caso Quindi noi dobbiamo battere subito P Con questi Sì Capisco che io vi avendo più calcio Penso l'abbia fatto apposta per la palestra Wow ha fatto qualche Aspetta sfidiamo questa Sfida le tizi Dai battiamo sto schifo Ciao Aia Ma cos'è non dimmi che l'ha messo quattro pozioni Dio mio Vabbè se lo usa tutte su Geodude questo qua è Sì Sì Vai Geodude Vai 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 continua Questa scontro è molto emozionante devo ammetterlo Sono sorpreso della mia bravura Cos'è che ha Starling? Non ha niente di utile Eh infatti Ci toccherà picchiare Burto colpo sono sculato Vaffanculo Vabbè ha ancora Onix Per roggito Aia Sì proprio Vai Paco Terrencosa Pardon Ma hanno tutti la bacca i figli di puttana Sì E' un altro brutto colpo Ma te sculi No Gara Eh Sì e poi Vai guacca Quattro pokemon alla prima palestra Va bene Non sarebbe male se potesse blinkare Ti voglio bene Ti voglio bene Io non mi voglio bene Ah ok L'importante è quello Metti Geodudo Vai Paco Vai Paco Gli ha messo lei di alto livello Così non fa mai mosse poco efficaci E continua a collegare tutto perché la mossa è migliore che può fare Oh Però dai Già abbiamo i livelli normali Contri Stiamo veramente facendo questo Basta No Cazzo Non hai più punti potenza invece Lui ha protezione Fargliene usare tu Cazzo però Questo è un problema Se perdiamo di nuovo io però mi suicido No Dio mio Oh l'hai imparata Perfetto abbiamo vinto Allora avevo ragione io Imparo all'undici Tu hai detto al nove Sì poi tu hai detto E forse hai imparato al dieci E poi ho detto Forse hai imparato all'undici Che Quindi ho vinto io Tanto vinco io Tanto vinco io Bello come Starling non abbia ancora usato la La bacca perché tanto muore subito Esatto Sì Sì Vai via Vai Starling Bravis Ha usato la salacca È più veloce È più veloce È più veloce È più veloce È usato Rocciotomba Silenzio ora Silenzio Sta per entrare Ma noi ci siamo allenati Per affrontarti meglio Ciao Onyx Cominciamo Sono la tua nemesi Ah sì Fai il rapportatore E lo faccio anch'io Te lo ricordo scusa Va bene Continuiamo così Sbringati Sbringati Puoi andare a casa Wow che forte Vero Rocco mi fai un favore Eh Metti quel cazzo di vidi Mi fai uno con il rototomba Merda Tanto vinco io Ho fatto un brutto colpo occhio Con azione Ok 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 Perfetto Wow Ok Ok Vai Metti i giudici Ciao Ok Adesso si va di sassare Vai Vai Usare tutte Quanto gli tolgo Eh Poi sarà per un brutto colpo Sì è un brutto colpo Ma vediamo che perdiamo di nuovo Forse Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Ciao